Bella ragazzi siamo i PIRLAS Questo oggi? Oddio ma chi c'è oggi? Oh abbiamo una new entry Chi sei? Sono la lady La lady ragazzi Ladies and gentlemen La lady ok Bravo Gabri questa è stata bella Nel video di oggi abbiamo due porte Una col bacio e una con lo schiaffo Faremo tirare le persone di tacco senza guardare Ci sarà una ricompensa o una penitenza Perché se fanno gol qua Vincono un bacio da lei Se mettono la palla qui vinceranno un bello schiaffo Allora quegli schiaffi baci potente Ti divertirai Perché abbiamo già delle persone che Guarda sono messi in fila l'han vista Sono già in fila per provare Quindi direi che possiamo iniziare Ok ragazzi prima che il video inizi mi raccomando Iscrivetevi a sto cacchio di canale Perché io so che voi guardate il video e non vi scrivete Perché se vi scrivete vincete un bacio da lei Se non vi scrivete vincete uno schiaffo da lei Ok non si è iscritto Tira uno schiaffo all'obiettivo alla telecamera Vai vai si si ti ho visto Molto molto bene molto bene E cerchiamo il primo sfidante Tra tutti questi ragazzi che hanno visto La ragazza in questione che brutta non è Cioè voglio dire E quindi Chi vuole essere il primo a provare Ci vuole provare ragazzi Allora è incredibile Le regole sono molto semplici Dovrai tirare di tacco da qui Adesso scegliamo una distanza tipo da qua E fare gol in una delle due porte Ok se fai gol in quella del bacio Ti vinci un bel bacio Intanto arriva il razzo in ritardo come al solito Se invece fai gol dove c'è lo schiaffo Prepara le guance perché lei è forte lei Possiamo cominciare Che squadra tiffi? Juventus Juventus ok Anche tu? Perché c'è Di Bala Ah perché c'è Di Bala E tu perché ti fii Juventus? Perché c'è l'arbitro? Sì Oh la porta a destra Figlia niente Non figlia niente Non ci arriva Figlia niente Vediamo dove vai Io sono stra curioso ragazzi Eeeh Subito Olè Bravissimo Io però voglio trovare qualche schiaffo Quindi Continueremo finché Adesso Lasciate la scena a Gabri Eccomi Grazie Perino per avermi dato la Lineo Vai eccolo qua il nostro prossimo pretendente 3 2 1 Vai Ah fuori 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 Finché non fai gol Tiri ok Quindi adesso riparti Aspetta sempre il mio via Quindi magari prendi un po' più di confidenza Lì il pallone fermo Allora ci sei 3 2 1 Vai Eeeh 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 Bello schiaffetto Poverino Ti fa un po' pena Che poverino Samuel voglio l'ottopinione Forte o piano Forte o piano Forte o piano Ma rompi la faccia Come ti senti in questo momento? Normale Non è il momento più bello della tua vita Non me l'ho ancora tirato Vai Ha fatto male Honesto 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 Abbiamo qui una persona che vuole provare Molto grande che non sa un H di italiano Quindi proviamoci in inglese You have to shoot from here If you score on the right You win a slap from her Very very strong So ok Are you ready? Yes I am ready 5 4 3 2 1 No No Si No Very strong Kiss Un little kiss Eeeh beh Come on E' stato bravo E' stato bravo Ok E' nice Adesso passa la linea al marocchino e al razzino E siamo qui con un nuovo concorrente Una porta prendi un bacio L'altra prendi uno schiaffo Mi scam forte Non è che Noi siamo qua su Piela Sv Solo forte È vero? Ayub E' il Bub Sistema il pallone Grazie Puoi andare via Ok Ma gliel'avete detto che il bacio lo vince da me Vero? Sì No Vai 3 2 1 Via Vai in alto Terzo tentativo Bacio Attenzione Non so se No no Abbiamo detto bacio da Pierino Bacio da me anche No Colpo di cena Stavolta il concorrente sarà il Razzi Guardi che incredibile Vorrei Capito Vorrei uno schiaffo Capito Però lo schiaffo lo tiro A te Di baci ne ha pochi lui Ascolta Io mi stavo chiedendo Ma secondo te E' più piccolo Il logo che c'è qui nei pirlazù La sua maglia O il suo pacchetto Guarda Ci sono state delle recensioni online Io Delle recensioni sui Razzi Sì assolutamente Cosa dicono Tutte negative Tutte negative Due stelle Allora io non mi ricordo Il Razzi il pistolino Mi ricordo Pierino il pistolino Non so se Non so se Ma io ricordavo anche Marocchino il pistolino No anche tu Vale tentare lui Quindi noi mischieremo le porte In modo che lui non sa Dov'è il bacio Dov'è lo schiaffo Oh schiaffo bello forte Se sbaglia Vai inizia a cambiarle Ok Raga vi ha sgamato Va bene avete fatto Vado Allora vai Tacco vediamo dove la metti Eh se vabbè Allora un bel respiro Oh però ci stavi per azzeccare Va bene Allora lo spostamento potrebbe essere avviato Non lo so vai Non sta ferma Non la sai star ferma Fuori Ma perché fuori Sempre fuori Che palle Dammi qui Ma non la sai tirare dentro Non la sai tirare dentro Un po' di mira Aspetta Vai Voglio un verdetto qui Bacio o schiaffo Palo Niente Che sfiga Vai Ah sei qua Dai sono qua Lancia spostata Oh aiubo non suggerirmi Nooo ti giuro Fra che palle Dai dai ce la possiamo fare Voglio un verdetto Bacio o schiaffo Attenzione schiaffo Nooo Eh bomber Eh bomber Aspetta aspetta Ok Cosa vuoi dire No no Non era questo Non era questo lo schiaffo In questione Oh no no Aspetta 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 No no Guarda che spaventa Si sta cagando sotto E devo tutti forti Sono forti A calcio Cioè no Perché dice dicevi a calcio Ragazzi Guarda che legge Tutta la rapida Ma chi ti caga Ti ha frenzonata una volta Dopo di questa sai cosa fa Non ci siamo mai scritti Su pirla svu Andate lì Vedete tutto Quindi ha degli screen Li mettiamo Quindi seguiteci su istagri Occi per aprire l'ascurso Vai vai In poche parole Ho fatto un palo Quindi vedi tu Beh ma tanto con questi muscoletti Che vi sarà solo un saletico Capito Oh Inciderai forte No hai ragione Non ti sei fatto niente? No Pensavi peggio? Io vedo delle piccole lacrime qua Eh guarda che può ripare Basta basta Vai che siamo qua Uno due tre Fanti cavallo re Vai Chi è il re di voi tre? Chi è il re? Te Allora Sei il re Allora lui è il re ragazzi Ah poverina Allora devi fare gol di tacco Bacio bacio Schiaffo Perché non schiaffo da lei Vai Il bacio te lo do io Il bacio te lo do io Io non lo voglio Te lo do io Ok Dai io no Ok allora Aspetta un attimo Al mio via Parti Tre Due Uno vai Stai lì Prepara il tuo guanciotte Facciamo prima i tuoi amichetti Oh ma sta maglia Ma sta maglia Ma sta maglia 2 1 Vai No No poverino Così carino Sta guanciotta Mi dispiace Rimani lì in attesa Facciamo l'ultimo Al terzo colpetto Parti eh No poverino Dai allora Facciamo voce Dai Tre Due Uno vai No No poveretto Cosa hai tirato Il microfono in faccia Allora infila Allora infila Vai allora Prendi il bacio Poi gli schiaffi Piano 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 No No Non ha fatto male Cosa pensi Eh te l'ho dato piano Vorrei anche vedere Cioè Vai oltre Dai anche lui Pi' coccoloso Prima ti ho offeso Lo sai Piano 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 Ehi cosa fate Bene Sta già filmando Sta filmando Benissimo Il video ragazzi Termina qui Vi ringraziamo Per averlo visto Mi raccomando A se Piacere Un piacere Ti è divertita Sì molto A tirare più a tirare gli schiaffi o a tirare i baci A dar i baci Schiaffi Schiaffi Mi raccomando seguiteci su Instagram Chiacciolapirlasv Perché facciamo una foto con questa bella ragazza qua Quindi se volete vedere chi è Qual è il suo tag Perché sappiamo che voi siete di gran stalk Che volete vedere su Instagram Dovete seguirci Andarle la foto Cliccare Hai capito Però anche te metti foto provocatorie Ho visto Non è che sei tanto angioletta Andate su Instagram Ciacciolapirlasv Vedete la nostra foto Con tutti i tag O anche i nostri Se siete ragazze Volete 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 No Eta di sicuro no Razzi e Gnabri Forse si Non so Poverette Quindi niente Tutto su Instagram Bene ragazzi Do il compito a uno di voi due di chiudere il video Davo Quindi ragazzi Pirlasv on my flag E voi We are the bats Pirlasv on my flag 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 Pirlasv on my flag